Quando mi chiedono chi sono i beauty pioneer, io rispondo sono pionieri della bellezza, sono professionisti che hanno fondato il laboratorio di cosmetico-manistica e che hanno messo al centro la relazione fra uomo e bellezza, cercando attraverso l'ascolto profondo di comprendere quali fossero i risultati di questa relazione e scoprendo che rispetto a quello che la bellezza porta con sé, quindi gioia, felicità, in realtà la relazione fra bellezza e consumatore molto spesso include un conflitto, include delusioni e quindi la comprensione del perché di queste delusioni, un'analisi con un punto di osservazione diverso e la ricerca profonda di nuove soluzioni, ecco questo è quello che contraddistingue i beauty pioneer, che sono coloro i quali cercano, promuovendo una fusione delle varie discipline, quelle umanistiche, quelle scientifiche cercano di comprendere a fondo qual è la volontà della ricerca scientifica quando si mette in opera per cercare di trovare soluzioni che possano soddisfare il consumatore e quali sono invece dall'altra parte le vere aspettative che spesso non si incontrano, spesso sono incomprese e quindi generano delle delusioni, addirittura generano degli adescamenti, tante volte io li chiamo adescamenti cosmetici, cioè delle promesse che poi non vengono mantenute e la conseguenza è anche poi un nomadismo cosmetico, quindi questa tendenza spontanea dell'umanità verso il buono e verso il bello, tante volte quasi sempre purtroppo non incontra il risultato aspettato. Bene, noi abbiamo cercato di ascoltare profondamente i bisogni e cercato anche di cambiare i paradigmi della ricerca e della consegna del prodotto e del servizio e questa è la vera missione dei beauty partner, cambiare le regole del gioco per ottenere un risultato che sia davvero quello che i consumatori si aspettano, quello che i consumatori desiderano e quello che accende una luce nelle loro anime e un sorriso che alla fine porta a quello che è la risposta alle loro esigenze che è la protezione della loro giovinezza, il rafforzamento della loro autostima, lo smorzamento delle loro ansie, il rafforzamento del loro benessere razionale e soprattutto una grande luce nell'anima.